Un saluto ai cari tesi che sono nel mondo, dal loro vescovo, che li pensa e li ama. Oggi abbiamo celebrato la festa di San Leonardo, vi abbiamo pensato, abbiamo pregato per voi. Sappiate che non siete dimenticati, siete nei nostri cuori. A San Leonardo vi abbiamo affidato e San Leonardo vi protegge. Andate avanti con coraggio e tenete alta la dignità dei calabresi. Un abbraccio con la mia benedizione, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E si chiama sempre l'amore. Un figlio di luce. Sono e guarda il Signore. E abbiamo grazie al Signore nostro Dio. E che cosa vuole giusta. E veramente cosa vuole giusta, nostro re, il mondo di salvezza. Rende le grazie sempre in ogni luogo. A te Signore, Padre Santo, Dio. Confortabile dalla sua testimonianza, affrontiamo il buon compattimento della fede per condividere al di là del mondo, la stessa prova di gloria. E poi esprimente a te. Il nome del Signore. Hosanna! Hosanna! Nel cuore dei Cieli. Hosanna! Il mistero della fede. Il tuo nome del Signore. Il cercare. Il memoriae della morte. Il spessore del confine. Il mio nome del Signore. E la tua nascita. Tua mia gioia. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie 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 Buongiorno Grazie Grazie